La Commissione Sanità in visita all'ospedale Fiorentino di Santa Maria Nostra. L'iniziativa è parte del tour annunciato dopo gli stati generali della sanità. Storia online i saggi di Augusto Cesare Ambrosi. La pubblicazione grazie al Museo Italiano dell'Immaginario Folclorico. Il presidente dell'Assemblea Toscana Mazzeo. I suoi studi, fatti con serietà, rigore e sobrietà, devono tornare di moda nella politica. Martedì 13 dicembre, la delegazione dei consiglieri regionali, membri della seconda commissione, guidata dal presidente Enrico Sostegni, ha realizzato un sopralluogo della struttura ospedaliera Santa Maria Nuova di Firenze, per riscontrare criticità e progetti futuri in termini di innovazione. Ad accompagnarli nella visita il direttore generale dell'Assemblea Toscana Centro, Paolo Morello Marchese. L'iniziativa di martedì è parte del tour annunciato a novembre, dopo gli stati generali della sanità, che ha l'obiettivo di visitare le strutture sanitarie della regione e incontrare gli operatori nell'ambito di una funzione di programmazione, ma anche di controllo e collaborazione con i professionisti del sistema. Tanti gli argomenti messi sul tavolo, si è parlato di integrazione ospedale-territorio, innovazione tecnologica, ma anche di riqualificazione di alcuni reparti come radiologia, fino alle tecnologie all'avanguardia delle sale operatorie ristrutturate nel 2019. All'incontro presenti anche i capi di dipartimento aziendali, i direttori delle società della salute, il comitato di partecipazione aziendale e i sindacati del comparto dirigenza medica aziendale. In realtà Santa Maria Nuova è un ospedale sul quale la regione ha investito molto, ha investito in tecnologia, ha investito in personale e quindi le criticità sono molto limitate, anche quelle di carattere generale. È ovvio, viene fuori sempre il rapporto con il territorio come elemento di criticità, che però qui si è provato a calmerare con una serie di elementi, che sono l'elemento del girot, quindi della possibilità di professionisti di uscire fuori, di un rapporto con il territorio anche per quanto riguarda la possibilità di usare le strutture territoriali come punti di ospedale di comunità e altri posti letto fuori. Insomma c'è stata una strutturazione importante, però rimane ovviamente una criticità. La mancanza di personale in pronto soccorso e qui soprattutto per la mancanza di specialisti che ovviamente possano venire a lavorare qui. Però diciamo che l'organizzazione è un pronto soccorso questo che è stato capace di strutturare il girot e quindi ci diceva anche oggi, vedevamo con il direttore, come questo abbia ridotto la necessità di ospedalizzare pazienti che magari hanno le patologie del periodo, quindi persone anziane con malattie respiratorie legate a influenze e situazioni stagionali, che non sono state ricoverate proprio perché c'è stata capacità di curarle a casa. E questo è un esempio di quello che si potrebbe fare. E poi medici internisti che qui lavorano direttamente in turno, in pronto soccorso. Quindi mi pare che una situazione sia davvero equilibrata. Quindi un ospedale dove l'investimento in tecnologie, nella struttura e nel personale ha portato davvero risultati. Beh, sono problemi che partono comunque da una forte integrazione medici-pazienti e quindi è un ospedale al centro di Firenze con le problematiche può avere una città bomboniera come Firenze. Nel senso che qui molto spesso arrivano persone straniere, arrivano persone che vengono in vacanza. Ci sono anche gli istanziali e gli istanziali sono soprattutto, vivendo nel centro storico, molte persone anziane. Quindi Santa Maria Nuova subisce i problemi di una popolazione molto intensa di una città metropolitana. Cosa che non abbiamo riscontrato nelle altre realtà che abbiamo visitato, cioè per esempio la Maremma oppure Pisa. Noi stiamo andando avanti secondo quella che è la funzione di questo ospedale. Noi facciamo da un punto di vista di accessi d'urgenza quasi 40.000 accessi l'anno al centro di una città cosmopolita e quindi abbiamo un po' una diversificazione di patologie e di necessità amplissima. Per questo naturalmente l'ospedale ormai ha una storia ben consolidata. Poi ha una serie di specialità particolari, a partire dalla chirurgia bariatrica che è di riferimento nazionale. Quindi è un ospedale a tutti gli effetti. Se la domanda era relativa a delle difficoltà, ma parlare di Santa Maria Nuova è come parlare di qualsiasi altro ospedale dove ci sono delle carenze di personale che sappiamo ma perché dalle scuole di specializzazione non ce ne ha sufficienza e quindi bisogna trovare modelli sempre in evoluzione che permettano comunque di soddisfare la richiesta dell'utenza. L'utenza arriva e bisogna inquadrarla, diagnosticare e curarla. Diciamo che già noi siamo operativi da questo punto di vista perché anche voi parlate moltissimo dell'importanza del territorio. Il territorio può fare sicuramente molto e noi abbiamo qui organizzato proprio un servizio con i geriatri. Sapete il nome è il girot sintetico ma in soldoni sono geriatri che prendono in carico proprio già dal pronto soccorso. Anziani che in realtà avrebbero dovuto trovare una risposta nel territorio, li prendono in carico e li riportano di nuovo sul territorio facendo servizio a casa oppure nei letti di cure intermedie nel territorio con gli specialisti proprio perché vogliamo dare la testimonianza qui al centro di Firenze che il più possibile si deve cercare di mantenere. Da questo punto di vista abbiamo anche incrementato molto il rapporto con i medici in medicina generale. Questo è un punto nevralgico su cui stiamo molto lavorando. A quasi vent'anni dalla sua scomparsa nel 2003 saranno pubblicati online tutti i saggi di Augusto Cesare Ambrosi. Storico di valore era nato a Casola in Lunigiana nel 1919. Esponente della scuola storiografica che da Giovanni Sforza a Dubaldo Formentini ha avuto il merito di indagare a tutto tondo la storia della Lunigiana. Ed oggi Augusto Cesare Ambrosi ha trovato casa nel Museo Italiano dell'Immaginario Folclorico di San Michele Piazza al Serchio dove si possono trovare online tutti i suoi saggi. Alla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa Palazzo del Pegaso presente il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, la figlia Alma Ambrosi, lo scrittore politico Valdospini, lo scrittore Corrado Leoni e il consigliere regionale Mario Puppa. È bello rappresentare la nostra Toscana diffusa. La figura di Ambrosi rappresenta la figura di un uomo che ha studiato, che con determinazione ha approfondito, che amava la sua terra e che si è messo a disposizione per vent'anni delle istituzioni. Arte, storia, cultura, conoscenza del territorio, amore per l'altro, per chi ogni giorno vive le sofferenze del suo tempo. In questi scritti ritroviamo quegli anni, quegli anni di impegno sociale, civile, politico ed è un messaggio di speranza, un messaggio verso i più giovani. Impegnarsi per la propria comunità è qualcosa di profondamente bello e questo scritto serve proprio a fare questo, a ricordare una storia per traguardarla verso il futuro. Mio padre è stato un pioniere nella sua vita di quella che oggi noi chiamiamo la valorizzazione. Lui si è reso conto per primo che in Lunigiana era necessario, prima di tutto, creare una cultura del territorio proprio negli abitanti e poi, siccome era anche molto pragmatico, aveva pensato che era necessario far sì che i beni della Lunigiana, i beni storici della Lunigiana, potessero diventare qualcosa che dava un ritorno agli abitanti stessi. Per questo si è adoperato tutta la vita nella valorizzazione appunto dei castelli, dei musei, delle statue stelle. Le statue stelle, se oggi sono conosciute e sono un simbolo della Lunigiana, sono iniziate con lui. Mi permetta poi un'ultima considerazione. Anche noi, famiglia, siamo stati, come dire, parte integrante di questo suo amore per la terra di Lunigiana. Ci ha coinvolto sempre anche in attività semplici. Eravamo ragazzine, ma per esempio aiutandolo a realizzare una mostra itinerante, a realizzare un convegno internazionale. Anche noi ci sentiamo parte di questo suo amore per la Lunigiana. È molto importante sia come amministratore, come sindaco di Casola di Lunigiana, che come dotto che si è veramente applicato come persona intellettuale, professore che si è veramente applicato alla grande storia della sua terra. Io l'ho conosciuto quando, giovanissimo deputato, presentai una legge per i Castelli della Lunigiana. Direi il secondo complesso in Italia dopo la Val d'Aosta di questo genere. E ricordo sempre il suo incoraggiamento. In quel momento era responsabile dell'Istituto Lunigiana dei Castelli. Il suo incoraggiamento fu veramente totale, sincero. E naturalmente ci aiutò molto in quel momento. Insieme a mia moglie abbiamo ideato, diciamo, questo format. La storia è molto semplice. Augusto Ambrosio è stato insegnante, professore di mia moglie, no? A Casola e Lunigiana. E quando mi ha incontrato mi ha fatto una testa così di questo personaggio. E ho trovato i suoi libri. Poi ero interessato a vedere le varie ricerche. Che sono disperse su almeno una cinquantina di riviste. Quindi andare a cercare tutte le riviste era un po' laborioso. Allora ho pensato insieme a lei. Abbiamo rilevato tutte quelle che abbiamo trovato, seguendo la biografia che ha fatto la fila Alma. E tutti i lavori fatti su rivista. E poi in questo modo l'abbiamo poi, diciamo, messo insieme digitalmente. E la difficoltà è stata poi trovare qualcuno o qualche ente che lo mettesse in rete. E otto mesi fa abbiamo incontrato Umberto Bertolini, che è, diciamo, il presidente, direttore del Museo Italiano dell'Immaginario Folclorico, il quale attraverso i volontari è stato digitalizzato e messo in rete. Per cui qualsiasi persona, sia ricercatore, ma anche persona comune, va e può vedere tutti i suoi scritti. E questo proprio per onorare un pensatore, un ricercatore, che è modello anche di ricerca. Cioè fa la ricerca partendo dal basso, per poi renderla, diciamo, a disposizione di tutti. Si parla del Museo Italiano dell'Immaginario Folclorico, una realtà importantissima per il territorio nazionale, in particolare per la Garfagnana e la provincia di Lucca. In quel museo, che raccoglie oltre 200.000 racconti depositati della tradizione orale, folclorica, fiabe, racconti inediti, oggi possiamo trovare un patrimonio che è quello dell'ascito di Ambrosi, una persona vicinissima anche al territorio della Garfagnana, ma in particolar modo della Luniciana, che arricchirà, diciamo, questo patrimonio nel tempo. Grazie a tutti.